Buonasera Grazie per essere così numerosi sarà contento la povera anima di Theodor Dreyer che nella sua vita una platea così non ce l'ha mai avuta ha fatto i film più belli del mondo oggi oggi lo consideriamo tra i più grandi registi del mondo e ve ne accorgerete dopo questo film però nella vita non ha mai avuto una soddisfazione di avere una platea così sempre dei disastri sono stati Truffaut che gli ha fatto una lunga intervista è stato studiato anche bene da Godard Godard disse di Dreyer i suoi film sono potenti e folli come le sinfonie di Beethoven e lo considerava il numero uno in assoluto per rigore per potenza d'immagine quindi come caro Manuela come ho conosciuto Carl Theodor Dreyer col Cine Club no stavolta non l'ho conosciuto col Cine Club stavolta l'ho conosciuto tramite una bocciatura di mio padre a quando facevo il centro sperimentale corso di regia sotto Roberto Rossellini e allora decisi che la storia delle religioni l'avrei messa un attimo da parte che era la mia materia nella quale mi stavo laureando e cominciai un po' a studiare a mettere storia e critica del film e quindi cambiare il piano di studi perché facevo il centro sperimentale arrivò il momento che feci un esame dovetti fare un esame di storia e critica del film con mio padre perché papà era l'unico professore a Roma di storia e critica del film ma anche in Italia perché è stato lui che ha creato la cattedra di storia e critica del film e in genere aveva due assistenti la sera prima dell'esame lui stava scrivendo l'ennesimo libro sul futurismo io andai là e gli dissi papà papà dai domani all'esame non facciamo scherzi neuralismo ok fellini ok pasolini ok blasetti se vuoi ok però ti prego fermiamoci a questi non è corretto che tu mi dica questo ma dai non è corretto dai mancano degli esami per la laurea dai era come di non rompere le scatole chiudi la porta devo scrivere io sicuro la mattina vado i due assistenti tutti e due malati e allora papà si rivolge alla pratica degli studenti dice scusate i due assistenti purtroppo sono malati lo devo fare io gli esami e quindi non farò in tempo a fare tutti voi quindi faremo metà e metà faremo metà tra gli ultimi e metà tra i primi in ordine alfabetico io V verdone quindi dico me tocca e allora fui addirittura il primo ad essere chiamato io dico papà è un grande dai mi fa subito l'esame e mi manda via e tutti verdone Carlo ma chi è ma chi sei parente uno è il figlio ma che è il figlio cioè alla fine arrivai si sieda subito dando mi da lei forte allora mi parli di io subito bellini bellini neuralismo lui niente non mi guarda guarda in alto e fa mi parli di pubst io rimango così e faccio realismo lui non continua a non guardarmi e c'è scena muta e dietro sento gli altri al diavico che fanno mi parli di dryer a quel punto gli faccio cazzo io lo dico proprio lui si ripresenti alla prossima sessione io aspettavo una battuta invece passa chiama all'alto altovidi perché faceva la cosa io prendo la giacca me ne vado e improvvisamente vedo il terrore lui che era un professore buono famoso per promuovere tutti rimangono bassiti dal fatto che aveva bocciato il figlio e rimangono così dice oggi non è o non si è preparato oppure è diventato improvvisamente severo il professor perdone papà tornò a casa e lì lì lo aggredì con qualche parola forte gli dissi ma che cavolo insomma dai mancano due esami ma perché mi fai fare quella figura no sono due autori che devi studiare e poi mi scocciava per far vedere che il padre promuoveva subito il figlio preparati papst e draie che saranno quelli che ti interrogerò perché lui è papà era di Siena se ti fa piacere la settimana prossima mi disse proietto un medio metraggio di draie che si chiama è difficile il titolo quelli che attraversarono quelli che quelli che dovevano prendere il traghetto il titolo è complicatissimo in danese ed è detto in italiano o quelli che persero il traghetto o quelli che devono attraversare il ponte cioè lo chiamano in quattro titoli diversi quindi e io andai là a vedere la prima opera di draie e vedi questo corto alla fine era un corto durava 20-25 minuti e vedi una cosa straordinaria la storia era di una coppia che ha una motocicletta deve scendere da un traghetto e di corsa deve fare una strada per prendere un altro traghetto e si sente che si capisce che il traghetto arriva in ritardo quindi devono correre ma correndo c'è un camioncino con un telo nero sinistro davanti che non li fa passare non riescono mai a passarlo perché o c'è una curva o passa un'altra macchina o c'è una cosa o c'è una strettoia e là capisci che quella è la morte che li sta precedendo e li sta portando ad un'altra vita ed è una cosa angosciante ma girato in maniera sublime perché stiamo parlando non lo so forse degli anni 50 fine anni 40 50 adesso non ricordo bene però una potenza d'immagine una tensione e non c'è mi sembrava che non c'era nemmeno la musica io rimasi molto colpito e tant'è che quando vedi Duel di Spielberg dissi non è possibile che Spielberg non abbia visto questo film solo che qua c'è la morte che li precede e invece è là sei inseguito dalla morte in Duel di Spielberg da qua questo regista mi colpì molto ne parlai molto con mio padre e mi disse se ti capita guarda Ordet mi capitò al cineclap Tevere di vedere Ordet finalmente durante una retrospettiva su Dryer e rimasi ero già un ragazzo insomma con una certa cultura una certa sensibilità rimasi molto colpito perché mai ho visto vedrete questa sera un film di rigore estremo dove tutto è perfetto sono meravigliose le luci è rigorosa la recitazione degli attori non c'è mai un'espressione facciale ma sempre un atteggiamento ieratico oppure uno che china la testa è una è ieratica e quindi è ed entri in atmosfere veramente molto 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 cupe molto severe perché si parla di dogmi di religione protestante sono è una famiglia la storia è quella di una famiglia dove c'è un figlio johannes che a forza studia teologia si diventa pazzo e si crede di essere gesù cristo e non fa altro che parlare attraverso parabole attraverso ricordando dogmi ma di dogmi parla anche il padre di dogmi parlano anche l'altro l'altro figlio che è sposato con una donna che sta per avere un bambino e lo perderà adesso però non v'anticipo niente perché se qualcuno non l'ha visto però vi assicuro che questo film è importante perché nessun regista ha mai affrontato come posso dire lo spessore morale complicato dell'uomo ecco Indraier è veramente è veramente proprio raccontato sviscerato nel migliore dei modi in maniera molto profonda molto austera il suo modo di girare è semplicemente fantastico perché all'inizio pensi di stare a assistere a un teatro filmato ma bastano due tre sequenze in cui vanno a cercare sto Johannes che ogni tanto si perde perché va come Gesù Cristo va a peregrinare parla riflette ad alta voce cita dei passi del Vangelo dell'Antico Testamento hanno paura che sto Johannes combini qualche casino però quei due tre momenti vediamo una collina con l'erba che trema perché il vento è molto forte che è la colonna sonora del film perché la colonna sonora del film è un vento teso costante nordico che lo senti e dentro casa e ovviamente fuori casa e senti il campanaccio delle mucche perché loro sono degli allevatori quindi la colonna sonora è quando stai fuori come se ci fosse una presenza soprannaturale in tutto il film il film è ordet cioè parola è parola su parole dove si disquisisce sempre sulla validità del dogma su quanto è importante il dogma però il profeta disse quella cosa però noi la interpretiamo così insomma c'è anche uno scontro diciamo tra lui e la famiglia del sarto sui vari aspetti alcuni aspetti della religione protestante allora sarà veramente un Cristo che torna questo Ioannes oppure no o è soltanto un povero pazzo e questo miracolo avviene perché lo vuole Ioannes o perché è aiutato dalla dalla bambina che gli chiede di farlo che sarebbe la figlia dell'altro figlio quindi la nipotina del padrone del padrone di casa non lo sappiamo però è un film che praticamente fa tanto riflettere fa tanto riflettere ed è bello è intenso ed è stato giudicato come il più grande miracolo della storia del cinema mondiale non si è mai visto una cosa del genere in questo poi Dry era famoso come stavamo dicendo noi per il bianco e nero il bianco e nero che usava lui è un bianco e nero che non si è mai più visto il bianco è abbagliante il nero è nero scuro scuro c'è un contrasto notevolissimo è come i contrasti che avvengono tra di loro su come interpretare quel dogma su come interpretare quelle parole del profeta insomma è un film che porrà tanti quesiti io non sono un critico cinematografico quindi l'ho spiegato un po' a modo mio però credo che sia un film per il rigore stilistico assolutamente tra i più belli che abbia mai visto questo lo disse Jean-Luc Godard questo l'ha detto Truffaut quando l'ha intervistato lo intervistò e disse era una figura ieratica lui stesso piccolino metteva soggezione ma poi quando cominciava a parlare era una persona di una dolcezza unica lui campava grazie al fatto che aveva una sala cinematografica e campava per quello perché con i film non guadagnava niente Vampyr Diesire Giovanna d'Arco non avevano fatto tanto pubblico però con Ordet che vince addirittura il leone d'oro a Venezia all'unanimità fu una cosa una festa mi ricordo mi raccontava straordinaria e insomma lui raggiunge vertici enormi e poi col tempo ringraziando Dio il tempo rende sempre merito all'opera o la declassa o la esalta ecco qua la straesaltata perché noi ci siamo a Cortica era nato un grandissimo immenso regista direi che la vociatura del babbo ti ha fatto bene perché è quello del quale hai parlato con più passione fino ad oggi grazie se so qualcosa e se mi sono avvicinato anche un po' la storia del cinema bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare quindi se non ci fosse stato mio padre grazie bene quindi buona visione sono convinto che uscirete sicuramente molto soddisfatti dovete avere un po' di pazienza far partire il film perché poi vi prenderà sempre di più e sarà sarà una bella carezza alla fine grazie a tutti voi grazie buon divertimento